Oggi presentiamo alla stampa e presentiamo a chi verrà a trovarci Kunz, il Gargano Food Fest. Kunz vuole e deve diventare un'esperienza magnifica per tutti coloro che verranno a trovarci. Ci sarà cultura, ci sarà arte, ci sarà buon cibo, ci saranno tutte quelle peculiarità, tutte quelle caratteristiche che fanno al Gargano un patrimonio unico al mondo. Faremo conoscere il nostro territorio, faremo conoscere il nostro paesaggio, faremo conoscere tutto ciò che è di bello, abbiamo tutto ciò che è di bello a il Gargano. Abbiamo scelto per questa manifestazione il termine Kunz perché è un imperativo che ci ordina di condire la nostra vita con tutto ciò che è bello, il buon cibo, la natura incontaminata, l'arte, la storia, le persone, i sorrisi, quelli che vi aspetteranno il Rignano Garganico il 2 e il 3 giugno per il Kunz, Gargano Food Fest. Un festival che vede la presenza di 27 partner tra istituzioni come il Parco Nazionale del Gargano, la Regione Puglia, la provincia di Foggia, il Comune di Rignano Garganico, il Gal Gargano. Partner istituzionali oltre a partner e associazioni di categoria, associazioni che vivono e fanno vivere il nostro territorio. Iniziativa che per noi è importante perché è votata la valorizzazione del territorio. Valorizzando il territorio ovviamente si valorizzano le nostre risorse e quale bene primario della scuola si valorizzano i nostri ragazzi che ovviamente saranno all'opera in laboratori enogastronomici e quindi delizieranno i presenti con loro elaborati. La manifestazione è ricca di eventi, dalle escursioni ai laboratori sull'olio extravergine di oliva, sul nero di Troia, sulla pasta fresca e grani antichi. Laboratori di colto e mangiato e contaminazione gastronomica tra chef locali e migranti. Avremo laboratori sul paleolitico, la prima farina trovata al mondo proprio a Grotta Pallicci e l'industria litica del paleolitico con i primi utensili da cucina. Avrete la possibilità di passeggiare nel nostro centro storico tra le vecchie abitazioni di inizio novecento allestite proprio per l'evento e l'ingresso gratuito presso il museo del paleolitico di Grotta Pallicci. Ci saranno vari show cooking con chef che vi mostreranno segreti e ricette con prodotti tipici locali. Il tutto condito dalle preparazioni enogastronomiche di più di 30 aziende che nella piazza centrale tra spettacoli musicali, eventi dal vivo, intrattenimento per i più piccini, colori, musica e un tramonto fantastico sul tavolire delle Puglie renderanno il Kunz un evento magico, un evento che vi parlerà di Gargano in tutte le sue sfaccettature. Venite a trovarci il 2 e 3 giugno, venerdì e sabato, al Kunz Gargano Food Fest. Vi aspettiamo! Grazie a tutti!